Siamo fermi nel traffico di Boston, stiamo cercando di arrivare al concerto di Lorenzo e se questi non si levano dai miei piedi, tampono tutti. Tu che ne pensi giusto? Che è meglio non tamponare nessuno. Vorrei avere una vitraliettrice che fa volare tutti. Siamo arrivati all'interno di Cambridge and waiting to get across the river, so we're close and give me a call when you get out of the top of the river and we'll know where you are. Ma che è Lino quello? Tra noi. Can you check is that Lino? Two cars behind. No, yeah. That looks like Lino's car. Is it Lino? You can't see that car. Scusami, ma ci sono prima io. No... Se questa persona si credi che pot sfilarci tra me a un'altra cosa. Pippo! 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 Sì, da te poi ce l'abbiamo. Eh sì, però io voglio essere già parcheggiata, pronta. Domani mi devo ricoverare all'ospedale perché la pressione è alta qua. Troppo eccitamento. Oddio, ma dove è uscita questa gente? Il posto non è tanto grande. Guardi la finestra, fai entrare il vento. E tutto quanto è movimento. Boom, e tutto quanto è movimento. Boom, boom, boom. Il movimento. Il movimento. Il movimento. Quello ci dobbiamo fare tutti. Tutti che corrono qua. Cioè quello che dovrei fare io per farmi abbassare la pressione. No, basta camminare. Solo camminare, correre anche è peggio. Perché quando corri, invece di consumare grasso, consumi lo zucchero. E anche devo sbattire quello. No, no, devi, devi, oddio. Tècnica della matemattica. Grazie.